va bene ragazzi stessa mappa di prima cambiamo solo modalità di gioco cattura la bandiera gran bella partita due round veramente veramente fantastici siamo riusciti a ribaltare il match bisogna dire che però eravamo uno in più noi questa volta probabilmente siamo stati aiutati da questo fattore ok non li vedo che lancio no c'è Gianluca era dietro l'angolo ah ok devo aspettare per rientrare ma dimmi te i nemici hanno la nostra bandiera che te pareva no hanno già preso la bandiera ok bisogna aspettare per rientrare attenzione il nemico ha catturato la nostra bandiera eh ho visto ok ho preso l'esram no dai dai gli ho sparato addosso di tutto e non sono riuscito a prenderlo eh vai kreefedapo in squadra con noi questa volta no l'ha preso Gianluca e poi ti ammazzo che l'ha coperto di nuovo ok forse è stato abbattuto però ok vai 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 vieni 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 è andato ok mi ha dato più 50 per la bandiera persa che casino preso no no però devo aspettare un attimo troppo a fretta troppo a fretta eliminato lancio una granata dobbiamo andare a prenderla eh loro hanno già fatto un punto eh nel frattempo ah no però attenzione eh vabbè ha messo giù la mitragliatrice pesante eh niente finchè ci sarà sempre la mitragliatrice pesante da dove ah da da destra no la modalità di prima mi piaceva di più eh infatti l'hanno pigliato ma attenzione il nemico ha catturato la nostra bandiera ok però dov'è la nostra bandiera ok che caspita è ha un bombardamento dall'alto direttamente eh sono già 2 a 0 però non ho capito veramente prima perché niente Gianluca ha aspettato che uscissi dal buco lì dove ero perché non l'hanno abbattuto niente oggi Gianluca è in super forma niente l'ha pigliata lui ha fatto praticamente fuori tutta la squadra 3 a 0 vincono loro niente non abbiamo potuto fare nulla erano troppo organizzati che il finale di Gianluca quella che abbiamo visto pochi secondi fa ok 1 a 0 per loro cattura la bandiera invertiamo le parti catturate l'obiettivo attenzione mi lancio una granata così a caso ma da dove? da dove? col drone addirittura? sta patugliando la zona col drone la bandiera nemica è nostra ha fatto il giro o no? la bandiera nemica è alla macchina bello si ma non va giù si ma sto caspita di drone non va giù avrà un tempo massimo no? se riuscite a tirarlo giù forse l'hanno tirato oh finalmente uovi nemico sopra di noi basta via devo sbrigarmi copritemi vai corri corri oh ce l'ho fatta ti ammazzo mi hai rincorso per tutta la mappa per oramai era troppo distante sono morto ma sono riuscito a fare un punto alla squadra a far fare un punto alla squadra ok ho abbattuto il loro porta bandiera hanno perso la nostra bandiera ottimo la nostra bandiera è tornata allora facciamo che proteggerla dai ragazzi che quel punto potrebbe risultare fondamentale beh nessuno che si avvicina mi spiace camperare così però devo proteggerla uovi nemico sopra di noi il nostro porta bandiera è azione guarda mi aveva visto la nostra bandiera è stata presa dai tiratelo giù tiratelo giù si ma perchè si vedono 15 eh no adesso vanno a fare punto vanno a fare punto niente da fare la nostra bandiera è stata catturata ecco ti pareva niente ci ha sterminati attenzione dragonfire nemico localizzato eh vabbè di nuovo sto caspita di drone però la nostra bandiera è stata presa da dove mi ha sparato bravo fallo fuori eh ci hanno pigliato di nuovo la bandiera stiamo perdendo attenzione il nemico ha catturato la nostra bandiera ma sto drone non va giù eh beh siamo concentrati a sparare a una roba volante uovi nemico sopra di noi i nemici hanno la nostra bandiera di nuovo eh niente fanno il 3 a 1 finita 3 a 1 niente ci abbiamo provato io comunque un punto alla mia squadra l'ho fatto fare il finale di lesdram che ha battuto me qualche secondo fa ok 2 a 0 per loro va bene così la modalità di prima è stata molto molto più divertente da giocare questa non mi è piaciuta granché erano anche uno in meno va bene ragazzi ultimo match di oggi giochiamo un'altra partita nella modalità dominio cambiamo solamente mappa mappa standoff kyrgyzstan ok eravamo troppo pochi prima per la modalità bandiera teniamo lo scar h e si parte ok via andiamo di qua la bandiera l'hanno già presa voi là chi è che spara già non ci credo kripped up è riuscito a salvarsi eh bello che gli ho sparato anche in testa gli ho sparato anche in testa c'è l'esdram faccio un rifornimento grandissimo no mamma mia che violenza però ok nel frattempo abbiamo due bandiere perdiamo bravo eh ci sta ci sta attenzione UAV di disturbo online vai l'esdram ci stanno dominando dovete reagire attenzione UAV nemico in arrivo eh no però niente da fare lo colpisco ma non riesco a tirarlo giù deve aver messo qualcosa per riuscire a resistere ai miei colpi prendiamo G Niente da fare ha preso il fucile a pompa anche ti ammazzo hanno tutte e tre le bandiere eh tutte e tre le bandiere prendiamo Charlie prendiamo A ah ok c'è Gianluca che mi sta coprendo dall'alto eh però è apparso alle spalle riusciamo a pigliare una bandiera perché ci stanno massacrando prendiamo Alpha dai pigliamo A ok sono riuscito a spostarmi appena in tempo grandissimo caspita siamo 64 a 15 niente oggi è veramente un casino non c'è una volta che riesco a tirarlo giù attenzione ho preso forse ho ucciso no sono tutti e tre lì sono tutti e tre lì sono tutti e tre lì adesso stanno tentando di tirarci via prendiamo A eh beh prendiamo C prima che conquisto C però ci stanno dominando dovete reagire qui è preso ok stavolta l'ho fatto fuori io perdiamo C ma di nuovo ma se l'abbiamo appena preso eh no erano in due però attenzione ho sbloccato questo non riesco a capire se loro sono uno in più o siamo noi che siamo totalmente disorganizzati attenzione UAB di disturbo online prendiamo Bram vittima volevo fargli saltare il furgone visto che si era nascosto lì dietro prendiamo C lancio granata ok lì c'è Gianluca no eh vabbè due ore per girare l'arma hanno lanciato 14 granate fantastico aia questo caspita di fucile a pompa preso ok sta per terminare il tempo sarà difficile ribaltare il match perché siamo 124 38 39 cioè è pazzesco veramente pazzesco ok in una situazione così bisogna prenderla con filosofia se sono più bravi sono più bravi non c'è niente da fare ah sono in 4 ecco come mai ok sono uno in più sono uno in più è praticamente impossibile ribaltare il match quindi mettiamoci già sopra una pietra conquistate gli obiettivi comunque sono uno in più eh prendiamo A sono uno in più ok uno l'ho tirato giù poi sono morto e poi ho tirato giù neanche quello che che mi ha ucciso ne ho tirato giù uno qualsiasi prendiamo A prendiamo C non riusciamo a controllare una bandiera non riusciamo a prendere una bandiera su muoviti attenzione UAV nemico in arrivo darling ha fatto il giro possiamo prendere C ok per fortuna riusciamo a mantenere il controllo almeno di C sì ma potrebbero essere un tipo di fronte a me vabbè pazzesco è stato fantastico perché l'ho pure pigliato prendiamo A preso sì ma sono troppo per prendere B è praticamente pazzesco non riesci a prenderlo perché sì troppo l'ho scoperto vado a provare a prendere A eh sono tutti lì sono tutti lì poi ho sbagliato pure a mirare prendiamo A sì ma tanto loro vanno a prendere C poi in qualunque caso gli basta mantenere B per vincere eh stai pure lì nell'angolo bravo ti ammazzo no no ma B non riesce a prenderlo è troppo è troppo lo scoperto c'è un'angolo caso crifed up prendiamo B prendiamo bravo ho fatto esplodere un'auto attenzione UAV nemico in arrivo eccolo bersaglio eliminato ok assist preso con l'ultimo proiettile sono riuscito ad abbatterlo bellissima una mira fantastica niente qua ho sbagliato di nuovo mira ok finita 280 erano uno in più ed erano meglio organizzati ci può stare bravi loro ultima kill di Darling ok limited round raggiunto sconfitta prima è stata una partita più bella però perché era più intensa più combattuta va bene ragazzi terminiamo le partite di oggi su Call of Duty Black Ops 2 qua Gran Bay match soprattutto quello che abbiamo giocato nella mappa Nuketown modalità dominio secondo me è il match migliore di oggi dato che le squadre erano ben equilibrate e la partita è stata molto molto combattuta ragazzi come sempre spero che questo video vi sia piaciuto se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Call of Duty Black Ops 2 alla prossima ragazzi e ci vediamo in un prossimo episodio